Buonasera a tutti. Grazie all'Upa per l'opportunità di fare questo intervento durante la nostra assemblea annuale. Il Presidente Sassori De Bianchi ha fatto un intervento come al solito straordinario. Ringrazio il Sottosegretario Catricalà per le cose che ha detto e per il contributo che darà nel percorso delle attività dell'Upa. Chiedo un applauso per Anna Maria Testa, lo faccio io per primo perché è stata veramente straordinaria, nel ricordare quelle che sono delle cose che noi in parte, anche come Eni, seguiamo con molta attenzione. Avevo preparato un lungo articolato intervento sulla comunicazione di Eni, sui nostri investimenti, sui giovani talenti e invece non vi parlerò di questo. Proverò ad andare alla radice della nostra situazione attuale, darvi un'interpretazione di ciò che, secondo me, ci si prospetta davanti, come potremo provare a progettare il nostro futuro. Ecco, vorrei partire da qui, dal tema di quest'anno, l'urgenza di un progetto. L'urgenza di un progetto è quanto mai attuale e presente. I lustri istituti di ricerca ci segnalano che da alcuni anni una sorta di arretramento della società, di una dimensione individuale sempre più egemone, anche a causa della costante erosione della capacità di dare risposte da parte di reti solidali e tradizionali, quale le istituzioni, chiesa, politica, sindacati e nuovi modelli di famiglia. A fronte di questo scenario, gli individui si aspettano sempre di più dalle aziende, grandi e piccole, progetti e ideali a cui aderire e sentirsi partecipi. La capacità di ognuna delle nostre aziende di andare e fare progetto e delle nostre marche di creare adesione e partecipazione non è più ignorabile ed è ciò che si permetterà, come sistema, come UPA, come aziende, di riprendersi in mano il futuro del nostro Paese e delle nostre aziende. Quali possibilità vediamo oggi per il nostro futuro? Quali le opportunità che possiamo e dobbiamo saper cogliere? Dalla mia prospettiva di responsabile delle relazioni esterne. Proprio come ci immaginiamo il futuro, vi vorrei parlare in questo mio intervento. Ma prima di iniziare chiederò un piccolo aiuto a un meraviglioso Peter Seller, che vi ricorderete tutti di Oltre il Giardino. E non dovrei correre rischi? Assolutamente no. E lei è d'accordo con Ben? Pensa che possiamo stimolare la crescita con incentivi temporanei? Fintanto che le radici non sono recise, va tutto bene. E andrà tutto bene nel giardino. Nel giardino? Sì. In un giardino c'è una stagione per la crescita. Prima vengono la primavera e l'estate. E poi abbiamo l'autunno e l'inverno. Ma poi ritorna la primavera e l'estate. Primavera e l'estate. Sì. E autunno e l'inverno. Sì. Io credo che quello che il nostro intuitivo giovane amico intende dire è che noi accettiamo le inevitabili stagioni della natura, ma siamo sconvolti dalle stagioni della nostra economia. Sì. Ci sarà la crescita in primavera. Signor giardiniere, le rendo atto che non sentivo una dichiarazione così ottimista e confortante da molto, molto tempo. Ammiro il suo solido buonsenso. È proprio quello che ci manca al Campidoglio. Grazie, mister Schanz, per la sua saggezza, per la sua capacità di semplificare le cose. È vero, siamo in un inverno che pare eccezionalmente lungo e sembra non finire mai. Non riusciamo ancora a vedere né il germogliare della primavera né una rigogliosa estate della nostra economia. Sembra quasi che tutti i paradigmi sui cicli economici siano saltati. Probabilmente è vero. ci troviamo nel mezzo di un vero e proprio reset globale, dove niente sarà più come prima. Ed è assolutamente vero che tutto è destinato a cambiare. Ma vorrei stimolarvi a provare per un attimo a guardare il mondo e l'Italia da una prospettiva più ampia e più di lungo periodo. A una visione di lungo periodo di cicli economici, che come ben sappiamo presentano curve di lunghi periodi di espansione, intervallate da curve di brevi, a volte periodi di depressione, ciò che mi preme sottolineare è che proprio in questi lunghi periodi di espansione trovano sempre la loro forza generatrice in dirompenti innovazioni tecnologiche e sociali in grado di incidere in modo radicale sugli scenari preesistenti. Anche le piccole rotelline che abbiamo visto prima, in effetti, è stata una piccolissima ma importante rivoluzione. Se non vogliamo rassegnarci ad essere le vittime di quelle che Schumpeter chiamava creative destruction, abbiamo il dovere come business leader di comprendere come i vantaggi competitivi su cui abbiamo basato le nostre strategie possono venire erosi o rafforzati tra un decennio da tecnologie emergenti nuovi fenomeni sociali. Come queste ci possono portare più clienti, costringerci sulla difensiva, ovvero ispirarci nuove strategie e modalità di azione. Le tecnologie si stanno evolvendo così velocemente, in così tante direzioni, che sta diventando quasi impossibile prestarvi l'attenzione che meritano e soprattutto selezionare quelle che da qui a un decennio o poco più saranno matura a sufficienza per avere impatti dirompenti, trasformare per sempre il modo in cui viviamo e lavoriamo, capaci di dare vita a nuovi business model, creare le condizioni per l'ingresso di nuovi player, ovvero soppiantarne totalmente dei vecchi. Il McKinsey Global Institute ha recentemente presentato questo interessantissimo e articolato rapporto, selezionando tra le molte dodici tecnologie che potranno avere impatti molto profondi sull'economia mondiale, chiamandole appunto disruptive technologies. Iniziamo con qualche numero. 32 milioni di dollari, il prezzo di quello che veniva considerato il più potente computer al mondo nel 1975, il CDC 760, e il prezzo di un ormai superato iPhone 4 che ha capacità di calcolo uguali se non superiori. 2,7 miliardi, 13 anni, sono il costo e la durata dello Human Genome Project, completato nel 2003. Otto anni più tardi, compare sul mercato questa macchina, la Personal Genome Machine, dal costo di 50 mila dollari, in grado di leggere 10 milioni di lettere di codice genetico in sole due ore, l'intero genoma in 50 giorni. Pochi mesi fa nasce lo ION, un nuovo microprocessore in grado di mappare l'intero genoma di un uomo in un giorno, al costo di mille dollari per analisi. È previsto che entro il 2020 costerà 100 dollari, basterà un'ora, consentendo screening preventivi di massa ed un ulteriore salto quantico alla medicina. 500 mila sono i chilometri già percorsi delle automobili automatizzate da Google e con un solo incidente causato peraltro da un errore umano. 1 milione e 500 mila le vite che potremo salvare da incidenti causati dai guidatori nel 2025 grazie all'introduzione su larga scala di automobili automatizzate. È triplicata, parlo di qualcosa di casa, è triplicata l'efficienza di estrazione del gas tra il 2007 e il 2011 in Nord America, grazie anche alla rivoluzione dello shale gas. Con questa nuova tecnologia gli Stati Uniti, da importatori unici che erano di gas, diventeranno esportatori. Hanno già avviato questo percorso. Ma la cosa più interessante è che lo shale gas e il conseguente abbantimento dei costi energetici. Da solo è valso un 1% di crescita del PIL americano tra il 2011 e il 2012 ed è previsto per l'anno in corso, il 2013, 1,5% del PIL. Tra i 95 e 450 miliardi di dollari all'anno è l'impatto stimato da McKinsey, derivante dall'utilizzo di tecnologie avanzate di esplorazione ed estrazione di greggio e gas entro il 2025, in Nord America, Europa, Cina, Argentina e Australia. McKinsey stima che l'effetto combinato di queste 12 innovazioni tecnologiche, dal mobile Internet alla robotica avanzata, dall'Internet delle cose ai nanomateriali avanzati, genereranno nuovi mercati, un nuovo impatto economico calcolabile nell'ordine di decine di trilioni di dollari. Tornando all'urgenza di un progetto, la domanda quindi è cosa stiamo facendo noi come aziende e come singoli business leader per cogliere queste enormi opportunità? Come cambia il ruolo del marketing e della comunicazione in questo scenario? Nike plus Fuel, per esempio, è comunicazione, marketing, media, prodotto e lifestyle, tutti in uno. Usa il mobile Internet, l'automation of work, l'Internet delle cose, il cloud, l'energy storage, gli advanced materials, a dimostrazione di come già oggi queste tecnologie siano entrate a far parte delle nostre vite e di come possiamo farne uso anche in comunicazione, anche senza un gigante della tecnologia, ma semplicemente con un'azienda che ha come suo core business l'abbigliamento sportivo. In questo mondo, in modalità always on, il tempo dedicato alla visione e interazione con qualche forma di media è in costante crescita anche in Italia e nel mondo e ci stiamo spostando dalla logica dell'interruzione a quella della relazione diretta on demand, attraverso la capacità di dare servizi e utilità, creando valore tangibile per consumatori e clienti, partendo dall'uso quotidiano che fanno dei nostri prodotti. In sostanza, il marketing, la comunicazione e i media si stanno infine fondendo ai prodotti e ai valori delle aziende. Nel contesto italiano di grande difficoltà sul lato degli investimenti, di contestuale e profonda trasformazione delle modalità di fruizione del ruolo della comunicazione, quale deve essere quindi la nostra bussola, in che direzione dobbiamo muoverci per massimizzare l'efficacia dei nostri investimenti? Questo signore aveva intuito con largo anticipo ciò che stava per succedere. Nel 1997, dopo alcuni anni di esilio alla Pixar, dove trovò comunque il modo di rivoluzionare l'industria cinematografica, tornò alla Apple. Trovò una Apple in grandi difficoltà finanziarie, zero prodotti innovativi in pipeline di sviluppo e con un'immagine decisamente appannata. Un Apple che, dopo aver lanciato il guanto di sfida nel 1984, sembrava aver perso rimediabilmente la guerra contro IBM e Microsoft. Jobs diede immediatamente un impulso enorme all'interno dell'azienda, rifocalizzandola sulla ricerca e sviluppo prodotti unici, fortemente innovativi, in attesa che questi vedessero la luce, decise di lavorare fortemente sulla marca, trasformandola in un vero e proprio lifestyle brand, una marca da scegliere quasi a prescindere dai prodotti. Steve Jobs era un visionario, ossessionato dalla qualità in tutto ciò che faceva. Dedicava alla comunicazione ogni mercoledì pomeriggio una riunione informale di tre ore con l'agenzia di pubblicità. I suoi responsabili della comunicazione facevano parte di questo team per elaborare insieme linee guida e strategie alla fine della riunione. Inoltre, alla fine di questi lunghi incontri puntuali, accompagnava le persone dell'agenzia nel ben custodito ufficio di progettazione della Apple per fare veder loro cosa stava sviluppando a tutti i livelli. Condividendo con l'agenzia la propria passione per i prodotti, per la loro creazione, è riuscita a far sì che quasi tutte le campagne pubblicitarie trasmettessero la sua emozione. Una volta Jobs disse che il suo grande talento e la sua grande passione consisteva nell'unire i puntini, connecting the dots, cercare cioè di trovare opportunità dove altri non ne vedono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo nuovo spot di Apple sembra quasi essere tributo a quella passione di Jobs. Quando la visione strategica di un'azienda incontra consumer insights forti, creatività di alta qualità, nascono cose magiche come questa, in grado di trasmettere la sua emozione. Connettere i puntini, una delle popularità di tutte le grandi menti creative. Spot come quello che abbiamo visto, non necessariamente richiedono budget di produzione enormi, richiedono però sempre un'attenzione maniacale ad ogni singolo particolare. Il talento nelle menti creative, in altre parole, altissima qualità creativa. dibattiamo da anni in merito al fatto se alti livelli di qualità rendono la pubblicità più efficace o meno, o se invece la creatività non sia una sciocchezza da creativi interessati solo a vincere premi ai festival. Spesso ho visto persone schierarsi dall'una e dall'altra parte, basandosi semplicemente su aneddoti o congetture. Questo libro, che trovate su Amazon e che consiglia a tutti noi investitori, pubblicato nel 2011, raccoglie e sintetizza i risultati di venti anni di ricerche internazionali e analizza il legame tra creatività e risultati di business. Dimostra, in modo direi definitivo e inequivocabilmente, il legame tra qualità creativa ed efficacia. Dimostra, per esempio, che le pubblicità premiate hanno un effectiveness success rate, cioè impatti molto significativi sul business, market share e profittabilità molto più alti di quelle non premiate. Effetti superiori di oltre il 10% sui grandi budget e del 27% sui budget medio-piccoli. Al di là dei numeri, le ricerche dimostrano che la pubblicità più creativa è pubblicità più efficiente e che le aziende più creative hanno più successo. La qualità creativa funziona perché dà alla pubblicità più possibilità di farsi notare, più possibilità di essere ricordata, più probabilità che se ne parli e che si è in grado di persuadere le persone. E le persone hanno un'opinione migliore delle aziende e dei loro prodotti quando quelle aziende fanno pubblicità più creative. Veniamo un po' in casa Eni. Enrico Mattei sosteneva che l'ingegno è vedere possibilità dove altri non ne vedono. In questo era straordinariamente simile a Jobs e ai suoi puntini. Ebbe il coraggio di immaginare negli anni 50 di sfidare le sette sorelle, i colossi petroliferi anglo-americani, di riuscire a creare una delle maggiori aziende energetiche integrate del mondo. La nostra gente, gli italiani come patrimonio, fiducia in noi stessi, il domani come speranza, immaginazione e ingegno. Questo era ciò che guidava ogni sua azione. Sicuramente sono di parte, ma ritengo che Enrico Mattei e il suo messaggio si ripropongono oggi con la loro straordinaria attualità. Prima di avviarmi a concludere, concedetemi solo alcuni secondi per far fare quattro passi, anzi sei, a un caro compagno di viaggio. Tranquilli, non morde, non abbaia, al massimo lancia qualche boccata di fuoco ogni tanto. I neni continuiamo a credere nella visione e nei valori di Enrico Mattei. È questa attitudine che ci ha dato il coraggio di intraprendere quella che probabilmente è la più grande operazione di rebranding mai realizzata in Italia, resa possibile da un forte commitment del Vertice. Lo abbiamo fatto perché siamo convinti che sempre di più le persone vogliono una relazione diretta con le aziende, dietro le marche, quindi è stato un modo per disintermediare e semplificare la relazione. Lo abbiamo fatto perché trasformare le pompe di benzina in any station significa per noi immaginare un futuro dove queste saranno il più diffuso e capillare canale retail sul territorio. E già oggi gli Eni Caffè sono il primo franchising di ristoro in Italia. È sempre questa attitudine che ci ha portato a competere da zero nel mercato consumer di luce e gas in Italia, Belgio, Francia, portando già grandi risultati. Basti pensare che in Belgio il processo di rebranding è partito il 1 novembre 2012, con l'obiettivo di diventare il secondo operatore del mercato retail. Oggi siamo al terzo posto. Inoltre, partendo da un'onorità di Eni praticamente zero, dopo l'uscita della campagna pubblicitaria abbiamo già raggiunto il 51%. Questo video che vedrete è stato fatto da una straordinaria artista giovane, giovanissima, che abbiamo scoperto per le strade di Milano e prende alcune delle cose che appunto così elegantemente, così brillantemente ha ricordato Anna Maria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Riprendendo infine il tema della nostra Assemblea annuale, l'urgenza di un progetto, l'urgenza di un progetto, credo che proprio da qui dobbiamo ripartire, da un progetto che rimetta la qualità creativa di noi italiani non solo al centro delle nostre pubblicità, ma anche nel modus operanti quotidiano delle nostre aziende. Metterle cioè in condizioni di affrontare con spirito innovativo le sfide che ci aspettano, le dirompenti opportunità che le nuove tecnologie ci stanno offrendo. Citando nuovamente Enrico Mattei, dobbiamo ripartire dal coraggio di immaginare. Il futuro è di chi lo sa immaginare. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie.